no poi se avete una serie di sporti perché avete uno di questi qua e due due esatto ma che si rilieva è rotto il mio trago è rotto poi ti metti a sgugito venite a sgugito pò un po' un po' Sì, 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 sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.